Hola a todos, ringrazio tra virgoletti Alessio Santella per la nomination è un video importante per sensibilizzare un attimo le persone su DASLA che è una malattia neurodegenerativa che insomma porta solitamente la gente a poter muovere soltanto gli occhi e il dolore che provano queste persone, il dolore che il freddo del ghiaccio e dell'acqua generano sul nostro corpo prima di gettarmi la secchiata nomino in realtà 6 persone perchè lo faccio sia... AAAAAAAA AAAAAA 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 BLEAS AAAAAA 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 Quindi nomino AAAAAA AAAAAA NOMINO STEFANIA DI CORSO DI CINESE MACCIA LATTE SERENA AH E MARCELLO SIGNORE NOMINO tre persone invece a miei amici e parenti NOMINO MIO ZIO NICOLA GUIDO DI PAOLO E MIO FRATELO VINCENSO Che pasta taglia Oddio